Siamo negli studi di Ascanews con Claudio Corbino, presidente di Associazioni Diplomatici, per parlare dell'associazione, una ONG importante, che svolge un lavoro importante, soprattutto nella formazione di quelle che sono probabilmente elementi brillanti dell'oggi che poi rappresenteranno la rete e il percorso di costruzione delle relazioni internazionali del domani, ma anche di impulso e di proposta in sede internazionale, in sede ONU, insomma l'Associazione Diplomatici fa tante cose. Che cos'è nel concreto l'Associazione Diplomatici? Noi siamo una ONG con lo status consultivo nell'Ecosoc delle Nazioni Unite e che ambisce alla formazione internazionale dei ragazzi di tutto il mondo. Ecco, appunto, un'attività che si diversifica su tanti percorsi diversi, uno dei quali il più importante riguardo alla formazione è proprio il Change the World Model United Nation New York, un evento che si svolge ogni anno all'interno del Palazzo di Vetro, un evento che ha anche tanti testimoni all'importante, perché in realtà sono tanti i personaggi importanti, italiani e non, che ruotano intorno alle associazioni diplomatici, non solamente in maniera, diciamo, consultiva e direttamente all'interno degli organismi, anche in occasioni come queste. Qual è l'obiettivo, appunto, di mettere insieme, per quanto riguarda la formazione di questo quadro dirigente futuro, l'esperienza e l'importanza di queste grandi personalità delle relazioni globali, con, diciamo, nuovi virgulti, diciamo, generazioni che stanno sbocciando, che hanno già una grande preparazione e che si preparano ulteriormente per essere, appunto, protagonisti anche di una nuova scrittura, di una fase storica che sta cambiando. Allora, ringrazio di questa domanda perché una delle nostre particolari questioni è quella di tenere insieme generazioni diverse e quindi teniamo molto al confronto fra generazioni. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare tante personalità della cultura, dello sport, della musica italiana e internazionale che hanno preso a cuore questa nostra attività e che ne condividono la mission. Quest'anno, al Change the World di New York, avremo il grande piacere di ospitare per la seconda volta il Presidente Clinton, che farà un Alexio Magistralis ai nostri ragazzi, proprio nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quindi la location suggestiva è uno speaker di grandissima qualità. Ma poi cito alcuni carissimi amici che sono, appunto, Marco Tardelli, il nostro Goodwill Ambassador, chi meglio di Tardelli può raccontare ai ragazzi come si raggiunge il successo? O un altro ospite a cui teniamo particolarmente che è Francesco De Gregori, perché vogliamo che i ragazzi attraverso l'arte possano guardare le cose da una prospettiva diversa. Credo che De Gregori sia uno dei più grandi artisti italiani e che si presti a questo per i nostri ragazzi è motivo per noi di grande orgoglio. Alcuni poi sono invece ospiti che stanno molto sul contenuto, cito Lucio Caracciolo, direttore di Limes, Salvatore Carrubba, già direttore del Sole 24 Ore, abbiamo avuto l'onore di avere tante volte Letizia Moratti, nostra ospite. Ecco, crediamo che i ragazzi oggi hanno bisogno di punti di riferimento. Guardare a persone che hanno fatto bene nel loro campo lavorativo, che sono state delle eccellenze nel proprio campo lavorativo, credo sia un grande spunto per i ragazzi di oggi, che hanno bisogno sicuramente di guardare a modelli di riferimento. Quindi il confronto tra generazioni e non lo scontro, il modello che noi proponiamo. Un confronto tra generazioni che si svolge però su temi molto importanti, i temi della geopolitica internazionale, sempre più sfidanti, da un certo punto di vista, anche nel cambiamento di approccio. Ci sono formule nuove, innovazione, linguaggi diversi. Anche questa è una delle mission importanti dell'associazione Diplomatici. I giovani portano tanto, possono anche cambiare quelle che sono le regole del gioco, anche essendo elemento di base. Ha ragione pienamente, il tema è coinvolgere i ragazzi nel loro mondo, perché poi di questo si tratta, il futuro di tutti noi appartiene maggiormente a chi è più giovane, e poterlo fare attraverso un canone comunicativo che restituisca loro la facilità, la comprensione anche di argomenti altissimi, quelli che noi siamo soliti trattare, che vanno naturalmente dai temi del clima, a quelli dell'ambiente, agli hot topics politici internazionali, però trattati tutti con la capacità di essere compresi dai ragazzi, fatti propri, e quindi facilitare i ragazzi ad una riflessione che poi stimoli anche un cambiamento futuro. L'associazione Diplomatici quindi fa tante cose, tante cose in favore dei giovani. Lei è un giovane imprenditore, oltre ad essere presidente dell'associazione Diplomatici. Anche la sua storia è una storia, da un punto di vista imprenditoriale, estremamente interessante. Nell'ottica delle cose che ci siamo detti finora, ce la può sintetizzare in questo momento di incontro che abbiamo? Ma sì, con piacere. In realtà è una storia che nasce quasi per caso. Io avevo vent'anni, ero alla ricerca di spunti diversi per il mio studio universitario, qualcosa che avvicinasse maggiormente il mio studio a nozioni pratiche, non soltanto teoriche, e mi imbattei nell'esistenza di questi programmi di formazione delle Nazioni Unite. Partecipando la prima volta, con alcuni amici alla volta di New York, capì che invece si poteva mettere in piedi un qualcosa che in Italia mancava, cioè un collettore tra le università e le scuole italiane, affinché questi modelli potessero diventare curriculari per i nostri studenti. Dopo dieci anni siamo diventati leader nel mondo di questa iniziativa, e quindi insomma la mia storia è una storia forse che nasce casualmente come imprenditore e poi avendo coltivato sempre nella vita alcuni miti nel campo della cultura, della musica, dello sport, ho avuto la fortuna di raccontare loro per vie di amicizia quello che stavo intraprendendo e così nasce questa strana idea di portare in giro un po' di eccellenza italiana, a parlare con i ragazzi del mondo, perché forse tutto sommato il cambiamento non è così lontano come si possa pensare.